cari amici e cari amiche di angoli ben ritrovati nella seconda parte della nostra serata insieme cambiamo completamente argomento e parliamo di padre giuseppe ambrosoli che verrà proclamato beato domenica 20 novembre espansione tv naturalmente trasmetterà la celebrazione di questo evento importantissimo seguendolo intorno alle 16 e 30 del pomeriggio anche con la celebrazione della santa messa con il vescovo di como il cardinale oscar cantoni ma in questo momento ad angoli vogliamo conoscere meglio soprattutto l'uomo e lo facciamo grazie a due ospiti che sono qui con me in studio io saluto e ringrazio giovanna ambrosoli presidente della fondazione ambrosoli memoria l'ospital calungo e nipote di padre ambrosoli buonasera grazie a lei davvero e poi un'altra presenza molto importante quella del dottor giuliano rizzardini dottore buonasera e grazie io dico molto importante al di là del fatto che lei direttore malattie infettive dell'ospedale luigi sacco di milano e membro del consiglio direttivo ma soprattutto lei ha speso tanto tempo insieme a padre ambrosoli e quindi credo potrà raccontarci davvero tante cose di lui come uomo è così sì sicuramente così era un piccolo grande uomo che ricordo a qual è la prima cosa che ancora oggi lei ha davanti agli occhi di tutta quell'esperienza condivisa ma sicuramente primo momento in cui in cui l'ho visto io mi sono sposato con mia moglie due ragazzi 27 anni sono partiti per un'avventura che non sapevano dove andavo mi ricordo che mia moglie quando eravamo sull'aereo ha detto stiamo andando lì ma ti scordi di avere figli e soprattutto non portarmi in un posto dove c'è guerra dopo sei mesi c'era la guerra dopo nove mesi padre giuseppe ha fatto partorire la mia prima bambina che è nata lì e siamo arrivati in questo aeroporto sentebbe che è un aeroporto storico completamente deserto lì c'è una suora che ci dice sui macchine veloci che dobbiamo arrivare a calongo che non sapevamo neanche dove fosse non eravate mai stati in zone di questo genere per nessuna ragione neppure per motivi di turismo no no non eravamo completamente vergine da questo punto di vista saliamo questa macchina piena di roba di mangiare di materiale per l'ospedale facciamo dieci ore di macchina le ultime tre quattro ore dentro la savana e arriviamo in una strada completamente sterrata e la suora ci dice scendete qua a un certo momento vediamo questo questo uomo che si avvicina che si avvicina a noi con un sorriso dolcissimo e prende le nostre valigie e chiedo alla sua ma chi è questo e questo è il primario dell'ospedale è la prima volta che l'abbiamo che l'abbiamo incontrato poi per i due anni che siamo stati insieme a lui praticamente ci ha accompagnato soprattutto negli anni che a partire dalla dalla fine del 25 sono stati anni di guerra fin quando stati insieme a lui quando siamo usciti hanno chiuso l'ospedale pensavamo che distruggessero l'ospedale poi è rimasto rimasto in piedi è tutto oggi è quello che la fondazione continua a supportare oggi che che la grande opera che padre giuseppe ha fatto sicuramente grandissima tale proposito voglio anche condividere di nuovo con voi amici a casa un servizio che ha mandato in onda proprio ieri sera la nostra informazione per entrare ancora di più nel merito di questo grande uomo vediamolo insieme padre giuseppe ambrosoli sarà beato il prossimo 20 novembre le celebrazioni rimandate a causa della pandemia si svolgeranno domenica prossima a calongo in uganda papa francesco ha delegato a presiedere la santa messa di beatificazione il nuncio apostolico in uganda l'arcivescovo monsignor luigi bianco nella stessa giornata solennità di cristo re il vescovo di como il cardinale oscar cantoni presiderà la santa messa di ringraziamento per la beatificazione alle 17 in cattedrale a como celebrazione che sarà trasmessa in diretta sui tv preceduta a partire dalle 16.30 da un approfondimento sulla vita e l'opera di padre ambrosoli partito da ronago piccolo paese comasco dove nacque nel 1923 nella famiglia che avviò l'omonima azienda lasciò tutto per andare a calongo dove ha avviato un ospedale attivo ancora oggi dopo la scuola superiore iniziò l'università milano facoltà di medicina e chirurgia che ha dovuto interrompere per lo scoppio della guerra finito il conflitto riprese gli studi per laurearsi nel 1949 scelse poi di entrare nella congregazione dei missionari comboniani del cuore di gesù insieme con le suore comboniane fece sorgere la scuola per ostetriche e infermiere che contribuì al miglioramento dell'assistenza sanitaria ugandese il cammino della beatificazione è iniziato nel 1999 12 anni dopo la sua morte il 28 novembre 2019 papa francesco ha riconosciuto il carattere soprannaturale della cura di lucia una giovane mamma ventenne riconosciuta guarita in maniera scientificamente inspiegabile quindi il miracolo domenica come detto in uganda il rito di beatificazione dalle 16 30 l'appuntamento è sui tv con gli approfondimenti e la diretta dal duomo di como della santa messa di ringraziamento presidente a me viene da chiamarla giovanna in maniera davvero molto spontanea perché lei ha questa luce probabilmente la stessa anche di padre ambrosolia naturalmente la fondazione ha un significato che comprendiamo bene quello di portare avanti tutta questa memoria e tutta questa attività e quest'impegno ma c'è continuamente bisogno di sostenerla perché credo ci sia ancora tanto da fare che dice perché stiamo parlando di un ospedale di 300 posti letto con 250 persone impiegate numero di pazienti all'anno gira intorno ai 50 mila tra ricoveri pazienti ambulatoriali quindi un'opera importante che si trova in un'area estremamente remota estremamente povera e che funge da riferimento riferimento essenziale per la popolazione locale soprattutto per i più vulnerabili perché l'ospedale ha la vocazione missionaria voluti dai combognani e da padre giuseppe che è quella di curare e quindi di fornire cure a chi ne ha più bisogno e a chi non è in grado di sopportarne il costo e poi vicino all'ospedale c'è questa meravigliosa scuola che è una scuola di eccellenza che forma le ostetriche e forma queste giovani donne che hanno affrontato grandissimi sacrifici per arrivare lì e per poter essere ammesse e dando loro la possibilità di veramente avere un futuro professionale e anche umano. E ancora oggi continua ad essere comunque una priorità la formazione l'istruzione l'aiuto la sanità essere vicino a questo mondo comunque è importante ogni giorno ancora oggi come allora quando questo progetto iniziò? Certamente ancora di più adesso poi c'è una memoria c'è un significato ancora più particolare e un'ispirazione ancora più forte la formazione è la strada maestra quindi cercare anche di affiancare le persone che lavorano in ospedale nella scuola cercando di sostenerle e di far sì che abbiano tutti gli strumenti formativi per poter poi essere autonomi nella gestione. Giovanna so che lei vuole ricordare anche che ci sarà una mostra all'inizio di dicembre che sarà un'altra occasione per entrare ancora di più in questo mondo e conoscere questo uomo straordinario vuole ricordarla e condividerla per celebrare questo momento importante della beatificazione abbiamo realizzato una mostra fotografica e videodocumentaristica allestita al palazzo Broletto a Como che racconta dal primo momento dal primo mattone l'opera di padre Giuseppe fino alla beatificazione. La mostra verrà inaugurata e sarà aperta dal pomeriggio del 3 dicembre per tutto il mese fino alla prima settimana di gennaio. Spero è un'occasione anche di formazione per i giovani perché noi vogliamo far conoscere padre Giuseppe e la sua figura perché sia un esempio per i giovani, un esempio positivo che è importante avere in un mondo dove gli esempi positivi sono difficili da far conoscere. Mancano decisamente e allora io caldeggio anche il sito sta andando in sovraimpressione durante questa nostra chiacchierata andate a visitarlo ma soprattutto pensate potrebbe essere un modo per destinare il vostro 5 per 1000 quando sarà il momento sicuramente a buon fine. Dottor Rezzardini torno da lei immaginando quello che lei sicuramente avrà visto, avrà vissuto perché da noi a volte ci lamentiamo della nostra sanità, di come funzionano i nostri ospedali ma facendo un parallelo con quello che può accadere là sicuramente lei avrà la sua opinione in merito. Che cosa succede di fatto? Quanto bisogno c'è di essere immediati, di essere pronti, di insomma magari di non pensare ma di agire immediatamente? Quanto bisogno c'è? Quanta gente arriva? Di gente ne arriva tanta, arriva con la patologia avanzata e bisogna intervenire subito. In quegli anni faccia conto lei che su 300 posti lettera eravamo in 4 medici, dovevamo gestirci le guardie per cui uno rimaneva disponibile una settimana a testa, notte, notte e giorno, ci davamo i turni e il padre Giuseppe era sempre presente, ci accompagnava in ogni momento. Devo dire che per me è stato è stato il vero maestro, l'università mi ha insegnato a fare il medico, lui mi ha insegnato cosa significa fare il medico e stare vicino all'ammalato tutto tonto. Lui c'era sempre, voleva veramente bene all'ammalato. Le cose più commoventi erano che lui quando vedeva un ammalato che non aveva da mangiare, glielo portava a lui direttamente, divideva il suo pasto e glielo portava a lui un pochino di nascosto perché poi i suoi confratelli lo sgridavano e gli diceva guarda devi mangiare tu, non devi dare da mangiare a gatti, ma lui c'è sempre stato. Sai che cosa mi viene in mente dottore? Che magari nella formazione dei medici forse varrebbe la pena. Forse varrebbe la pena, qualche mese, qualche settimana anche, no? Devo dire che è ancora il mio formatore perché quando sbaglio a fare le cose, quando non capisco cosa sto a fare in ospedale, che faccio solo burocrazia, basta che mi gira un po' nel mio studio, c'è la sua foto e lui ti richiama un po' cosa significa essere medico veramente. E quindi averlo conosciuto e sapere che ci siamo, il 20 di novembre e domenica ci sarà la beatificazione nel suo cuore che cosa suscita? È un'emozione grossa perché per me, mia moglie e anche la mia bambina è stato veramente un padre, oltre che un maestro. Naturalmente sì, e per lei Giovanna che invece è proprio della famiglia, che emozione arriva? Anche per noi è un'emozione molto grande, enorme, un momento che è stato rimandato per mille ragioni, tanto atteso, anche non voluto, però ecco che trascende anche proprio la nostra totale comprensione, quindi sarà un momento veramente bellissimo. Sicuramente sì, allora ricordo a tutti voi amici a casa che appunto nella giornata di domenica 20 novembre il Vescovo di Como, Cardinale Oscar Cantoni, presiderà la messa di ringraziamento per la beatificazione alle ore 17 in cattedrale, ma noi saremo già in collegamento dalle 16.30 con un approfondimento sulla vita e l'opera di padre Ambrosoli, quindi assolutamente seguiteci. Io davvero ricevo tutta la vostra emozione e vi ringrazio per questa grande occasione. Grazie a Giovanna Ambrosoli e al dottor Giuliano Rizzardini per essere stati miei ospiti e per rappresentare così in maniera molto viva quello che questo grande uomo ha fatto. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche a voi per essere stati con me, naturalmente vi ricordo la mail, prima di chiudere continuate sempre a scrivere ad angolichiocciolaespansionetv.it con Angoli e con voi, io tornerò domani alle 19, tra poco invece la linea ai colleghi dell'informazione. Grazie a voi. Grazie a voi.